Ok, Gluti, rimuovi l'app. Non posso rimuoverla, sono solo un ostagista. Non è così che funzionano le app. Fallo come funziona, allora! Non è il modo che funziona per farle funzionare. Toglila dal server! Pensi che siamo stupidi, ma noi sappiamo che le app hanno a che fare con il server. È sull'astronave madre! Dov'è l'astronave madre? Sta arrivando. Portaci lì! No! Sì, scuotilo ancora, Morty, stava funzionando! Portaci all'astronave madre!